ciao a tutti e bentrovati a tutorial di tutto il genere siamo qui oggi per un tutorial particolare ossia come come bere il whisky senza usare il bicchiere e quindi abbiamo il whisky il bicchiere il whisky e il bicchiere niente il bicchiere lo prendiamo lo smettiamo di prendere poi prendiamo il whisky il whisky e niente già girando la bottiglia in pratica si si può fare grazie